Attendono ancora il pagamento di due mensilità arretrate della tredicesima. Per questo motivo i lavoratori della DECA, società che gestisce l'impianto di depurazione di Lamezia, Gizzeria, Falerna, Curinga e Filadelfia, si sono mobilitati. Secondo la ricostruzione del sindacato Will Trasporti, il Corap, ex ASI, riceverebbe i soldi dai comuni per il pagamento dei servizi di depurazione, ma non li verserebbe nelle casse della DECA, mettendo in difficoltà la società e quindi i dipendenti. Una situazione che, secondo il sindacato, rappresenta una costante fin dall'inizio dell'appalto, partito nel novembre 2010. Ad oggi il debito insoluto nei confronti della società di gestione DECA risulta avere abbondantemente superato i 3 milioni di euro. Dal giugno del corrente anno, fa sapere il sindacato, è subentrato nella gestione del rapporto con la società DECA, il Corap, Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, il nuovo ente della regione che accorpa i consorsi ASI di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo e Reggio. Guidato dal commissario straordinario, la dirigente regionale Rosaria Guzzo. Per risolvere la questione è stato quindi sollecitato l'intervento del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, per convocare l'organizzazione sindacale, i sindacati del comprensorio, quindi i rappresentanti della società La Mezzia Multiservizi, il commissario straordinario del Corap, Rosaria Guzzo e i rappresentanti delle società di gestione DECA-SRL. Rossella Galati per la Cineus24.